La Saga rischia in questo modo la liquidazione e l'inadempienza è tutta della giunta regionale e della regione rappresentata da Marsilio e dall'assessore Febo. Mi chiedo infatti se sia questa la politica del turismo che vogliono mettere in campo, ovvero facendo rischiare alla Saga di mettere in liquidazione la società, uno degli asset più importanti della nostra regione. Il consigliere regionale e capogruppo del PD Silvio Paolucci lancia l'allarme sui conti della Saga, Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, sottolineando che dal 30 aprile, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2018, si registrano ancora rinvii per l'ok allo strumento di programmazione. A stretto giro questa mattina è arrivata la risposta dell'assessore regionale al turismo Mauro Febo e del presidente della Saga, che parlano invece di situazione sotto controllo. È un rischio veramente ridicolo, che non è privo di fondamenti. L'aeroporto gode di ottime salute, speriamo, nonostante la chiusura di Linate, che ci fa perdere due voli al giorno quest'anno, di superare i 700 mila passeggeri. Abbiamo detto che vogliamo arrivare alla fine del nostro quinquennio a superare un milione di passeggeri. Il bilancio è stato regolarmente approvato dalla Saga, che ha iscritto in bilancio la cifra di 1.160.000 per competenza, così come ce l'ha per competenza in bilancio la regione Abruzzo. Si tratta solamente di terminare un passaggio che sarà fatto il 17 in consiglio regionale, quindi tutto in regola. Per quanto riguarda invece la variazione già assunta, dove addirittura ci si accusa di aver sottratto risorse per la Saga, quanto di più falso, perché in quella variazione abbiamo dato per la prima volta, dopo anni risorse certe alla cultura e al turismo, in modo da poter programmare. Sono risorse che riguardano non la Saga, ma riguardano i voli, i bandi che stiamo per emanare, che riguardano nuove attrattive, sia nazionali che estere, a cominciare sicuramente da Torino e Catania. Stiamo lavorando di comune accordo con i vertici della Saga per trovare una sponda importante su Mosca e su altre direttive internazionali, quindi credo di poter certificare che Saga sta andando benissimo, come sta andando bene il turismo per la regione Abruzzo. Presidente, qual è la verità sui conti? Paolucci parla addirittura di rischio liquidazione, l'assessore Febbo dice che non ci sono assolutamente problemi, il presidente della Saga cosa dice? Noi diciamo le cose come stanno, noi il bilancio l'abbiamo approvato a giugno, poi il socio regione che deve ratificare il bilancio nell'assemblea dei soci ci ha chiesto un rinvio di un paio di mesi, fino a ottobre, primi di ottobre, per mettere a posto i suoi conti e per noi il socio e la regione non c'è nessun problema. Il problema sta nel fatto che se chiaramente la regione non mettesse a posto i suoi conti, a ottobre ovviamente si aprirebbero dei problemi, che noi avremmo un buco di un milione di euro che qualcuno deve ricoprire, cioè il socio, ma fino a quando la regione fa un rinvio e ci darà i soldi, per noi problemi non esistono. Vorrei solo precisare che noi il bilancio lo abbiamo approvato, quindi non è che è da approvare il bilancio, la regione lo deve ratificare, che è un'altra cosa.